Il futuro del nostro pianeta è in pericolo. Sarà questo il tema dell'evento internazionale organizzato per lunedì 17 giugno dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di Sassari. In programma interventi scientifici, visite al campo sperimentale di Ottava e la proiezione al moderno Cityplex del film Domani. A sostenere il progetto partner come il Festival Pensieri e Parole, Libri e Filme Lasinara, la Moderna SRL e il Comitato Fridays for Future di Sassari. I contributi scientifici verteranno sull'utilità della microirrigazione e indagheranno le conseguenze del cambiamento climatico e sulla produzione di cereali. La lotta alla desertificazione coinvolge in primo piano la Sardegna e l'Italia. In particolare, la regione sarda soffre la perdita di oltre il 50% dell'acqua distribuita in rete, l'insufficiente irrigazione e la scarsa qualità dell'acqua in ingresso ai potabilizzatori, problematiche che, nonostante lo stanziamento di fondi adeguati, continuano a rimanere insolute. Nel soffre soprattutto l'agricoltura, esposta come non mai ai rischi iterogeologici e le dinamiche impazzite del mercato globale dei prezzi, con pesanti ricadute su imprenditori e cittadini.